Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, è finita Monza, è finita 1-2 in favore del Bologna e questa sfida tra Monza e Bologna lancia due messaggi opposti ovvero Monza che praticamente si ritrova ad affrontare una crisi o una sorta di crisi mentre il Bologna sta dando continuità ad alcuni risultati il Bologna veniva dalla vittoria in campionato contro il Lecce e con questa vittoria va a 15 punti classifica e sono punti importanti il Monza invece con questa arriva a tre sconfitte consecutive perché infatti aveva perso con l'Empoli, aveva perso con il Milan e oggi arriva questa, a mio avviso, brutta sconfitta in quanto a me personalmente non ha mai dato l'idea di essere superiore al Bologna nemmeno quando era passato in vantaggio con il rigore ben trasformato da Petagna io avevo sempre l'idea di un Bologna superiore e a mio avviso l'ha dimostrato a mio avviso è stato anche fortunato oggi il Monza ad avere un passivo solo di due gol di Gregorio ad esempio nel primo tempo aveva fatto una gran bella parata sull'attaccante del Bologna su un tiro leggermente deviato ma una grande parata era stato anche fortunato in un'altra occasione a deviare il pallone con l'aiuto del palo quindi oggi secondo me il Bologna è stato superiore al Monza e vorrei sottolineare il gol di Ferguson ma vorrei sottolineare il lancio del difensore austriaco che ha messo veramente un buonissimo pallone con un gran lancio questa è la tipica giocata che se la facesse Bonucci per dire avrebbe esaltata a livelli incredibili e invece l'ha fatta il difensore austriaco del Bologna Porsche che veramente ha fatto una giocata importante che ha sorpreso Rovella e che fa un errore poi è stato bravo anche Ferguson poi nel concludere molto bene la domanda che mi pongo io non è tanto sull'errore di Rovella che c'è ma perché Rovella si sia trovato lì? cioè perché lì ci fosse Rovella? questo secondo me si dovrebbe chiedere palladino perché lì c'era Rovella? Rovella non dovrebbe stare così basso da essere difensore centrale perché non è il suo Rovella non è un difensore centrale quindi ecco lì secondo me c'è l'errore di Rovella ma c'è anche un errore di posizionamento da parte dei giocatori del Monza palladino dovrà lavorare molto a mio avviso su questa squadra anche se aveva fatto un buon lavoro da quando era arrivato aveva portato via dei punti importanti però secondo me il Monza ha dei margini di crescita ancora e deve assolutamente riuscire a dare nuovamente l'infa a questa squadra che appunto con oggi ottiene la sua terza sconfitta consecutiva poi ragazzi io penso che qualitativamente, tecnicamente il Bologna sia una squadra superiore cioè se noi pensiamo che il Bologna comunque in panchina abbia gente come avesse gente come Orsolini Sansone Soriano cioè ha comunque giocatori che dal punto di vista tecnico sono giocatori sono giocatori importanti sono giocatori comunque esperti per la Serie A Orsolini è un giocatore che se vuole fare il salto di qualità nella sua nella sua carriera deve dare continuità alle sue prestazioni e oggi è entrato bene oggi è entrato bene a me ad esempio oggi è piaciuto anche Barro Barro che è stato spesso criticato oggi secondo me ha fatto una buonissima una buonissima partita e mi piace molto come calcia i calci d'angoli oggi Bologna ha battuto tanti calci d'angolo e lui li ha battuti comunque comunque bene cioè mi piace proprio la maniera in cui in cui colpisce il pallone e i calci d'angoli per il Bologna sono comunque un'arma sono un'arma importante anche anche Tiago Motta ha secondo me tanto su cui lavorare però ripeto per me Tiago Motta ha in mano una squadra che qualitativamente è superiore è superiore e oggi e oggi l'ha dimostrato sono io ragazzi sono molto curioso di vedere cosa farà il Monza in questa stagione e sono curioso di vedere anche se certi giocatori del Bologna tra cui Barro per esempio riusciranno a fare quello step che gli è richiesto e che non sono riuscito a fare anzi Barro addirittura era andato un po' a regredire quindi deve essere bravo Tiago Motta a dargli tra virgolette credibilità a certi giocatori e a farli crescere in maniera in maniera esponenziale quindi io sono molto molto curioso di vedere cosa faranno sia Paladino che Tiago Motta con i rispettivi giocatori poi oggi manca Varnautovic e anche questo comunque deve far riflettere un po' il Monza perché comunque il giocatore più importante del Bologna non c'era e comunque ha perso 2-1 e in più non è stata capace di gestire il vantaggio perché dopo essere andata in vantaggio pochi istanti dopo ha preso il gol dell'1-1 ecco secondo me dovrebbe riflettere comunque su questi aspetti Palladino mancato posizionamento lo sbagliato posizionamento dei suoi giocatori nonostante l'assenza di Arnautovic aver concesso più e più occasioni al Bologna e questi due sono secondo me gli aspetti importanti poi tutto il resto che ho già detto però questi secondo me sono i due punti fondamentali detto ciò ragazzi detto ciò con questa partita si chiude questa giornata di campionato e onestamente vi dico la verità quando io avevo visto nel calendario il lunedì la partita tra Monza e Bologna non ero non ero entusiasta perché secondo me questa è una partita che si dovrebbe giocare la domenica alle 15 e basta però alla fine hanno offerto un buono spettacolo non è stata una partita spumeggiante ma è stata comunque una partita che non ha fatto calare la palpebra e con qualche e con qualche buono spunto quindi dai si è visto si è visto di peggio vi mando un forte abbraccio invito a iscrivervi al canale diffondete il verbo e ci vediamo molto molto presto ciao ragazzi e complimenti al Bologna perché è giusto fare i complimenti quando lo merita ciao